È stato un anno denso, pieno di iniziative in tutta la Chiesa, dove si è potuto vedere e toccare con mano i frutti della misericordia di Dio. La mia, all'inizio, era stata una semplice intuizione. Il Signore, come sempre, ci sorprende e va al di là delle nostre atesse. E così quel desiderio è diventato una realtà che si è potuta celebrare con tanta fede e gioia nelle comunità cristiane sparse in tutto il mondo. La porta della misericordia, aperta in tutte le cattedrali e nei santuari, ha consentito che i fedeli non trovassero alcun ostacolo per sperimentare l'amore di Dio. È successo qualcosa di veramente straordinario, che ora chiede di inserirsi nella vita di ogni giorno per fare diventare la misericordia un impegno e uno stile di vita permanente per i credenti. Così, Papa Francesco ha parlato del Giubileo della Misericordia da poco concluso, incontrando in Vaticano organizzatori e collaboratori dell'Anno Santo, guidati dall'Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che il Pontefice ha definito instancabile. Ha quindi ringraziato tutti per aver reso possibile che l'Anno Santo si celebrasse in maniera ordinata e sicura, con grande afflusso di pellegrini e in modo da far emergere il profondo valore spirituale. Ai milioni di pellegrini ha detto, avete reso un vero servizio di misericordia. Il pensiero del Papa è andato anzitutto al Ministro dell'Interno italiano, poi al Capo della Polizia e al Questore di Roma, che hanno lavorato in grande collaborazione con la Gendarmeria Vaticana. Quindi ai membri della Commissione Bilaterale tra Santa Sede e Governo Italiano, e alla Guardia Svizzera con tutte le istituzioni vaticane. Infine alla Regione Lazio, al Prefetto e al Comune di Roma, prima di ricordare il lavoro quotidiano e silenzioso dei volontari di tutto il mondo.